Conoscere e rispettare le regole, approfondire i temi della democrazia e della legalità sotto ogni punto di vista. Sono queste le linee guida di un progetto scolastico di ampio respiro che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Onnicomprensivo Dagnillo di Agnone. Tra le iniziative proposte, un confronto con il magistrato molisano Luigi Cuomo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il messaggio che la scuola ha inteso trasmettere attraverso questa iniziativa è che, al di là delle regole scritte, certi valori vanno coltivati sin da quando ci si siede tra i banchi di scuola. Si lega al progetto Legalità e Cittadinanza Attiva, che è parte integrante del progetto educativo dell'Istituto, con il quale la scuola intende formare una coscienza legale nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti. Il rispetto delle regole si insegna nei banchi di scuola, a partire dalla quotidianità e dai piccoli gesti. L'Istituto, utilizzando tutte le risorse pedagogiche, didattiche, legislative, con mirati interventi didattici, di formazione, opera sull'esperienza quotidiana dell'alunno, favorendone la riflessione e preparandolo al riconoscimento partecipato delle regole della vita democratica. Il rispetto deglirendi sono